Eccoci, al Battisti dell'assurdo. Fra 3000 anni ancora si chiederanno che cosa significava questa negazione, questa esplosione. Questo è il Battisti concettuale che non contraddice quello sentimentale, ma se lo mangia e lo digerisce, l'allievo sotto nel maestro, perché sono la stessa persona e si fagocitano in lupo. A Battisti quindi non importa del pubblico, che stenta a capirlo. Sparisce per sempre dalle scene, ma continua a fare canzoni sempre più assurde. L'autore è Panella, che si serve di Battisti affinché canzone sia mancare il testo. È filosofo della rivoluzione linguistica in atto. È un'implosione incomprensibile, ma i Battisti, gli ultimi cinque dischi, opere d'arte, che arrivano quando il mondo è elettronico, midi, negli anni 80, e Battisti fa elettronica così come era stato rock negli anni della musica acustica. Battisti è un maestro dell'arrangiamento, aveva già disintegrato la disco music, elevando la canzone d'autore e ora lo fa con la techno. Lui ha la musica, lui è musica. La canzone chiede cosa succederà alla ragazza, che al posto della ragazza ci mettono la canzone. E allora, cosa succederà alla canzone? Così potrete decrimptare il testo, forse vi sarà più chiara anche la metamorfosi di Battisti. Perché era cambiato così tanto, forse per salvare la musica, l'ha fatto per noi e noi sotto la croce. Gesù, Gesù, che non se ne parli più. L'alba, la barba, la curva della gola, naso iate che sono orli di donna. La luce ancora a sonno ma si dà, un tono da ostetrica che è urgente. Apre gli occhi sul mondo partoriente che è a disposizione. L'alba, la barba, resa con le buone. Offrire la gola alto con leggero l'alba, l'alanolina candidata. Gli uccelli appostatissimi nell'aria. Con gli uccelli senza guardie, alle pareti. Ed è ancora mattina I pesci, 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 pori, pori Cosa succederà alla ragazza? Vede i pori Le corna come il toro Le corna a curve sono Due fermenti traficanti La bassa voce Sotto la croce, sotto la croce Nel loro dialetto antico Nel loro diletto pratico Che la vogliono fare mollire Che la vogliono suonare Appesa al campanile Che la vogliono ricoprire di cioccolata Che la vogliono servire in bocca Ad una bocca sterminata di fuori Che cosa le tocca Sentire che cosa Allora ricordarsi di fare delle cose Delle fotografie Che possono sempre sapere Che non se ne parli più Gesù, Gesù Che non se ne parli più Gesù, Gesù E con la mattina Tutti sono pronti A bere qualcosa Che non se ne parli più Che non se ne parli più Per fare le bolle E con la mattina Che non se ne parli più Che non se ne parli più Che la vogliono ricoprire di cioccolata, che la vogliono sentire in bocca. Ad una bocca sterminata di foglio, che cosa le tocca sentire che cosa. Che la vogliono sentire in bocca.